Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14 e 30 su Aracne TV. Buongiorno e bentornati, sempre ospiti della suggestiva cornice di Vivere e raccontare la rubrica ideata da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati, dedicata agli autori e a tutte le opere del loro ingegno, il sipario di spazio scenico si apre sulla protagonista di oggi, Roberta Sansò. Buongiorno. Buongiorno a te, è veramente un piacere e un onore essere qui con te. Carina che sei Roberta, grazie a te di aver accettato il nostro invito. Allora, Roberta è un'attrice romana, forse l'avrete anche già riconosciuta. Inizia a calcare il palco scenico dopo aver vinto la borsa di studio all'Accademia di Prosa Mario Riva negli anni Ottanta e riesce anche a laurearsi con 110 e l'Ode nel frattempo. Vanta in curriculum dei lavori teatrali davvero importanti, tra cui anche dei musical. E lavora con Alida Valli, Giovanna Ralli, Lando Buzzanca, la premiata ditta, Aldo Giuffre, Giuseppe Patroni Griffi, chi più ne ha più ne metta, veramente tanti, tantissimi altri. Ha avuto ruoli anche nel cinema, nelle fiction, per citarne due su tutte, Il Paradiso delle Signore, Furore, è stata protagonista di spot televisivi. Ma noi vogliamo sapere chi era Roberta da bambina e come si immaginava da grande. Devo dire che non ho tradito molto le mie aspettative, nel senso che da bambina io volevo fare l'attrice, o meglio, volevo lavorare nell'ambiente dello spettacolo. Ma devo dire la verità, non ho avuto alcuna influenza da parte della famiglia, perché io sono di una famiglia di commercianti, anche se poi ho scoperto che dei parenti, che da parte di mio padre, insomma, sono attualmente attori e lavorano in teatro, per cui ho capito che, insomma, una vena artistica del mio ceppo già esisteva. E veramente, devo dire, innata questa passione, tant'è che le mie bambole erano tutte attrici, showgirl, e anche nei temini a scuola, cosa vuoi fare da grande, io dicevo sempre l'attrice, mi sognavo dei dialoghi con delle attrici. Non eri timida alla bambina, quindi? No, io ero anche timida, però avevo questa indole, insomma, dello show, anche con i parenti, recitavo sempre degli spot pubblicitari, mi inventavo delle scenette, organizzavo degli spettacolini teatrali tra bambini, insomma, era un po' un'indole, pur non essendo poi così estroversa, come poi, diciamo, per dovere professionale, sono diventata andando avanti con la vita. Ascolta, Roberta, tu hai dimostrato il tuo talento, veramente, cimentandoti in vari campi. Grazie. Ma la tua bellezza è stata più un viatico o più un problema, una diminuzio? Bellezza fisica. Fisica, il tuo aspetto fisico. Oddio, grazie. Intanto, vabbè, chiaramente non me lo... Beh, insomma, è oggettivo. Sì, insomma, io delle volte invece non mi vedo nemmeno così bella. Io credo di essere in grado di sistemarmi, acconciarmi in modo da rendermi, diciamo, piacevole. Ma esiste un pregiudizio nei confronti della bella donna? Cioè, fa più fatica a dimostrare la propria bravura, la propria attitudine, il proprio talento? Guarda, ti devo dire la verità. Allora, io non mi sono mai posta, quando ho iniziato i primi passi nell'ambiente dello spettacolo, come la bella. Diciamo, non ho mai puntato tanto su questo. Per quanto poi, in qualche modo, è inutile non ammetterlo, ma soprattutto quando ero molto più giovane, un pochino ci... la sfrutti questa cosa, ci vivi un po' di rendita per alcuni lavori in cui è richiesta... Un biglietto da visita, sicuramente. L'attrice che sia, appunto, anche con determinate caratteristiche fisiche più piacevoli, diciamo, ecco. Però io, sin dall'inizio, ho sempre studiato, per cui ho puntato più su questo, perché volevo che la mia preparazione, le mie intenzioni nell'ambiente fossero a lungo termine. Esatto. E per fare questo bisogna studiare. Ascolta, a questo proposito, la vita di un'attrice è fatta anche, appunto, di studio, di sacrifici. La vita dell'attrice è tra romanticismo e realismo. Bellissima questa domanda. Romanticismo lo posso intendere nel senso che bisogna in qualche modo sognare e, come dire, mettere un po' una cornice alla vita di un'attrice. Ed è fondamentale perché, a differenza di quello che si può pensare o dall'apparenza, la vita di un attore, di un'attrice in generale, non è facile. Io, appunto, sin da ragazzina che ho iniziato a intraprendere questa strada, mi sono ritrovata, appunto, a dover parlare con tante persone, a cercare di farmi conoscere una vita di casting, di file per fare i provini, appunto, e le foto nuove, e l'agenzia, e i provini di teatro. Devo dire un bello stress, ma non solo. Lo stress è che si porta appreso. Sai, c'è una cosa fondamentale, secondo me, essere attore-attrice è anche un modo di vita. Ti coinvolge 24 ore su 24. Perché tu devi, in qualche modo, considerare che anche qualsiasi cosa fai nella vita può essere condizionante per quello che devi fare. Perché non fai l'attrice, sei un'attrice. Sei un'attrice. E se tu hai lo spettacolo per dire, devi stare attento se ti stressi, se mangi male, se prendi freddo, se ti ammali, perché tanto anche con la Febba a 40 si va in scena. E ti assicuro che a me è capitato. Ascolta, effettivamente è vero che hai a che fare con tante persone, ma ti capita di sentirti sola? No. Ah, è bella, bella risposta. No, perché, guarda, più che altro, ti devo dire la verità, la solitudine a volte la cerco con me stessa, perché è un'esigenza di ritrovare un po' i miei pensieri. Certo. Fortunatamente sono pieni di amici. Ma quando è scelta e ricercata è una bella solitudine, diciamo, quando uno se la sceglie, no? Sì, ecco, esatto, diventa piacevole. Sola no, perché sono riuscita a dare molto valore all'importanza che ho dato nella vita, quella del valore, dell'amicizia, del contatto con le altre persone. E, a differenza di quello che si possa pensare, io in questo ambiente ho fatto tante belle amicizie. E quindi non mi sento mai sola. Bellissima questa cosa. E poi si percepisce che è vera, sì, lo stai dicendo con gli occhi luminosissimi. Ascolta, il tuo coinvolgimento emotivo quando interpreti un personaggio. Magari un personaggio che non ti somiglia affatto. Onestamente. Guarda, ti dico, io credo che arrivare ad un personaggio sia un fatto più che altro tecnico. E, come sai, io insegno anche ad una scuola di recitazione ed è questa io la prima cosa che dico anche ai miei allievi. Io sono dell'idea che il coinvolgimento emotivo ci deve essere, ma non deve essere assolutamente troppo coinvolgente in quanto ci fa perdere la ragione. Un attore in scena deve essere comunque razionale, lucido. E controllato. E controllato, assolutamente sì, perché è però importante l'uso dell'emotività. Ma questo non va a capito dell'autenticità, della spontaneità? Ma no, comunque è necessario che tu usi una tua emotività interna per rendere un personaggio migliore. Chiaramente poi dipende pure che cosa stai interpretando. Soprattutto in certi personaggi, in momenti più drammatici, è necessario rubare qualcosa dalla propria anima. Sì, ma purché questo non svuoti la nostra anima del tutto. Bravissima, bello. Dal 2000 lavori spesso diretta da, permettimi di dire, un genio ribelle, come Geppi di Stasio, che è anche il tuo compagno nella vita. Hai capito. Cosa vuol dire lavorare col proprio partner? Una domanda retorica questa. Sì, però mi stuzzica perché intanto devo dire che ci siamo incontrati sul lavoro, per cui già avevo il mio ampio curriculum. Uomo avvertito, mezzo salvato, già sapeva con chi aveva a che fare. Sì, sì, tra l'altro ci siamo conosciuti con un... perché ho vinto un provino dove lui lavorava accanto ad Aldo Giuffre, e così è iniziata la nostra conoscenza, che poi con il passare del tempo è diventata poi una relazione, ma non è stata una cosa immediata assolutamente. Io credo che lui sia un bravissimo artista. Io ho dato talmente tanto alla vita per questo lavoro, alla vita professionale, quindi per me questo lavoro è stato fondamentale. per cui non avrei mai compromesso il mio sacrificio, chiamiamolo così, perché onestamente devo ammetterlo, è un sacrificio comunque questa vita un po' a ostacoli. Se Geppi non fosse stato un grande professionista, una persona che reputo veramente capace a fare il suo lavoro. Per cui io con lui ho fatto veramente una crescita. E quando siamo insieme a lavorare non esiste il fatto di rapporto compagno-compagna. Noi siamo l'attrice, il regista, oppure i compagni di lavoro sul palco. Ma è più esigente con te che con gli altri? Non la noti questa cosa? O più critico nei tuoi confronti? No, forse è più esigente, ma perché probabilmente lui conosce i miei potenziali, perché data la confidenza ho, diciamo, questo vantaggio, lui sapendo i miei potenziali. Quindi cerca di insistere di più su certe cose perché sa che può tenerle. E quindi pretende. E quindi pretende. Allora, attualmente Geppi dirige la compagnia stabile del Teatro delle Muse a Roma. Teatro meraviglioso, piccolo, con le maschere napoletane, veramente meraviglioso. Dove lui mette in scena chiaramente testi suoi, proprio degli adattamenti. Personalmente ho assistito all'eredità di Zio Domenico, che è una pièce incredibilmente intensa, autentica, molto empatica anche col pubblico, anche e soprattutto per il retaggio di alcuni personaggi mutuati dall'indimenticabile e indimenticato Teatro di Eduardo. Esatto. Ecco, effettivamente il teatro del tuo compagno è contrassegnato da una vena ironico-malinconica ed è da una sorta di ironia, oserei dire, a tratti graffiante. Ma io voglio sapere come lo vedi tu il Teatro di Geppi, con i tuoi occhi, con questi splendidi, meravigliosi occhi. Raccontaci il Teatro di Geppi. Mi riallaccio un po' al discorso precedente. Geppi regista, Geppi anche autore. I suoi testi, i suoi adattamenti sono intrisi di cultura, di ragionamenti. Insomma, Geppi fa un teatro, il suo teatro poi lo definisce il teatro che fa pensare. E devo confermare che in effetti è così. E questo poi si vede anche nello sviluppo dei personaggi, per cui è abbastanza gratificante, anzi molto gratificante interpretare i suoi personaggi perché li condisce molto di sfaccettature, consente all'attore insomma di potersi esprimere al meglio varie, diciamo, lati dell'emotività. Quindi i personaggi di Geppi che siano con meno battute o con più battute sono sempre molto completi, anche nel modo che a lui di dirigerlo. La cosa straordinaria è che effettivamente la società si evolve, i tempi cambiano, però questi personaggi restano eterni, sono molto attuali, molto contemporanei. Lo sai, sempre riguardo la scrittura di Geppi, lui ha fatto sia adattamenti, quindi di personaggi, ecco testi anche di scarpetta, ripetito, quindi personaggi riferiti del passato, ma lui condisce anche nei suoi adattamenti qualcosa che riguarda una morale che ritroviamo anche nel presente, insomma, quindi per questo è importante. Morale però senza moralismo, quindi mi è piaciuto molto, cioè sono tornata a casa che mi era veramente rimasto dentro lo spettacolo e questo è il valore aggiunto sicuramente. Sì, questa è una sua peculiarità, diciamo, come comediografo. Ascolta, è in uscita il corto La Rosa Blu, dove sei la protagonista, accanto a Enzo De Caro per la regia di Geppi, raccontaci questa cosa. Sì, in realtà la cosa è nata nel senso che non è legata, nel senso che siamo stati scelti separatamente. Io sì, come attrice, poi tra l'altro ringrazio Antonio Parciasepe che mi ha voluta per questa cosa, quindi mi ha fatto incontrare, diciamo, gli organizzatori di questa cosa. Vi siete incontrati sul posto di lavoro con Geppi. E è successo che lui separatamente è stato scelto come regista per fare quest'opera cinematografica, che tra l'altro è molto bella perché parla di realtà di ragazzi diversamente abili e poi c'è anche una parte di animazione. Insomma, siamo tutti in attesa dell'uscita di questo corto, che dovrebbe essere molto interessante, molto bello. Non vediamo l'ora, davvero. Con le musiche di Giovanotti e Ezio Bosso, un tanto per... Bene. Ci auguriamo che sia un bel prodotto. Se ne parlerà sicuramente. Le premesse sono buone. Ascolta, mi parlavi tra l'altro tra i tuoi progetti, sogni e ambizioni di uno spettacolo sottroisi? Sì, è un po' lo spettacolo che stiamo aspettando di... su cui lavorare. Saremi scena appunto nel 2019 con questo spettacolo. È un omaggio che Geppi di Stasi ha voluto fare a Truisi, che mi vede protagonista con lui sulla scena. Guarda, ho i brividi, perché poi quando si nominano certe persone, che non sono personaggi, ma sono rimatte persone del tempo. La cosa bella è che lui si è inventato praticamente un ipotetico dialogo tra Pablo Neruda e Massimo Truisi, che poi ha molte affinità. Di questo ve ne parlerà poi Geppi. Assolutamente lo aspettiamo, Geppi. Questo sì, assolutamente. Roberta, io ti ringrazio davvero di essere stata nostra ospite oggi. Lo sai che ci tenevo particolarmente. Un immenso piacere, veramente. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi tutti per averci seguito. E come sempre, lo sapete, se volete ci ritrovate qui a Spazio Scenico su Aracne TV. Grazie a voi.